Cosa significa aderire ad un contratto di rete? Quali vantaggi e quali responsabilità per le imprese? A mia opinione il contratto di rete è un importante veicolo di incremento della competitività a livello di mercato e della capacità innovativa soprattutto per le piccole imprese questo senza necessità di fusioni o di accorpamenti con altri soggetti imprenditoriali è importante anche per la semplicità con cui si costituisce la rete d'impresa e permette quindi facilmente e sulla base di un programma, quindi di un obiettivo da raggiungere in comune una costituzione che altrimenti potrebbe diventare complessa